Continuano ad esserci forti i dubbi sulla tenuta del rialzo dei mercati delle criptovalute da inizio anno perché è stato abbastanza forte, vicino al 40%, anche perché nelle ultime due giornate del weekend Bitcoin ha accelerato, ragazzi, andando a portarsi sopra il livello di resistenza più importante, quello più vicino ovviamente, non il più importante, lo vediamo oggi in questo video, ma soprattutto negando quella che era la figura che vi avevo anche mostrato nell'ultimo video venerdì, cioè quello sul grafico settimanale del Future CME, l'abbandone baby, la figura che era temutissima, va bene, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi, faccio tintinnare il Bitcoin, ancora una volta è uscita la faccia che preferisco, ve lo metto qui in anteprima, vediamo se riusciamo a continuare questa fase rialzista, il dubbio però sulla tenuta di questa fase rialzista continua ad esserci, ragazzi, anche perché i mercati sono vertiti veramente a razza, in tutto gennaio, si chiude il mese di gennaio proprio in questa settimana, ci sono delle scadenze cicliche che effettivamente potrebbero indurre Bitcoin a fare una leggera flessione, che poi da qui a dire, ritorno a crashare, ne dobbiamo parlare, perché bisogna analizzare una serie di cose, ci sono dei dati fondamentali che riguardano l'economia americana che escono questa settimana, ci sono anche dei grafici su Ethereum e sulle altre cripto che vanno analizzate, tutto in questo video dell'unedì, analisi sul breve, andiamo a vedere anche la famosa questione legata alla barra sul grafico orario di distribuzione, che ovviamente è stata annullata, è diventata una barra di accumulazione, ma comunque durava due giorni, e andiamo anche a vedere il ciclo mensile, quindi tutto questo video sarà dedicato all'analisi del breve periodo, ragazzi, quindi tenetevi pronti, si parte subito da questo punto. Il grafico settimanale, ragazzi, sul grafico del Future CME, ho fatto un po' di ridondanza, ha annullato la candela Abandoned Baby proprio nella giornata del venerdì scorso, dove alla fine della giornata ha fatto un super pump Bitcoin e si è portato al break del livello 21.5, questo che era il livello in pratica fondamentale, questa zona qui di cui avevamo parlato, breccandolo ha fatto il flash pump, un po' atteso, un po' ormai scontato, un po', lo sapete che i mercati da cripto funzionano in questo modo, il successivo livello di resistenza, quello che praticamente dichiara in maniera definitiva che questo movimento non appartiene più al movimento precedente, quello che abbiamo visto da giugno, è i 25.300 sul grafico del Future. Se Bitcoin dovesse avvicinarsi a quel livello, se dovesse breccare quel livello, l'ipotesi 1 di cui abbiamo parlato negli scorsi video, cioè quella che il ciclo annuale di Bitcoin sia in atto da giugno 2022 e questo sia solo il movimento secondario di quel ciclo annuale, verrebbe totalmente annullato e a quel punto il ciclo annuale sarà iniziato a novembre e quindi avrà tanto spazio ancora per poter correre in termini di tempo. Poi da qui a comprendere dove arriva bisogna seguire come sempre il trend. Però le due ipotesi, ragazzi, che abbiamo visto già nei video precedenti, stanno pian piano delineandosi, quindi si sta delineando il mercato e sta indicando quale delle ipotesi potrebbe essere la più veritiera. Io un po', ragazzi, vi dico francamente, la mia idea me la sono già fatta. Non c'è ancora un dato statistico oggettivo che mi porta a definire la prima o la seconda ipotesi più probabile, perciò di questa cosa non ne parlerò su YouTube fino a quando non ci sarà un dato statistico oggettivo, mentre un po' in Academy ho già dato quelle che sono le mie idee personali, ma siccome le mie idee sono personali e non oggettive in quel caso posso sbagliare e anche alla grande, perciò non ne dico su YouTube anche per non forviare, diciamo, un po' chi non ha magari grandi esperienze nel comprendere questo tipo di logic sugli scenari. Resta ancora valido questo gap che è rimasto, questo qui ovviamente il non l'ho fatto, poi vediamo se lo chiuderà anche se è minuscolo, però ragazzi a me in generale la teoria dei gap non la amo più di tanto, soprattutto su Bitcoin, sui stocks, le classiche, le vecchie era abbastanza valida, invece su Bitcoin non tanto. Prima di passare però al grafico del ciclo mensile, perché è proprio questo che voglio farvi vedere, perché in effetti questa settimana potrebbe delinearsi la chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, dovremmo stare attenti a una cosetta, ma soprattutto potrebbe essere una opportunità, quindi adesso ne parliamo, ma prima vi faccio vedere quelli che sono i dati attesi per questa settimana che potrebbero proprio scaturire questa chiusura eventualmente del ciclo mensile se dovesse verificarsi. Intanto parla la Lagarde proprio oggi, ma probabilmente anche domani, ma ripeterà a menadito quello che ha già detto, quindi nessuno shock per i mercati né oggi né domani. Per quanto riguarda mercoledì ci sono i dati attesi delle scorte di Greggio che sono sempre peggiori rispetto al previsto, ma già da un po', quindi sostanzialmente il mercato si aspetta in ogni caso che ci siano maggiori scorte di petrolio e di conseguenza si aspetta che questo dato vada a influenzare la questione della recessione, perciò un po' la spinta recessiva. Poi abbiamo invece il giovedì il giorno clou che dovete tenere fortemente sotto osservazione perché abbiamo il PIL del quarto trimestre, poi la richiesta dei sussidi e la vendita delle nuove abitazioni che sono tutti e tre dei dati completamente collegati alla questione della recessione economica che è il nuovo leitmotiv che ci stiamo portando avanti nel 2023, quindi imparate a convivere con questo tipo di logica, recessione è il nuovo, è la nuova inflazione, è il nuovo dato che gli istituzionali guarderanno per il 2023, sarà estremamente importante fare una cosa del genere. Poi di NRD invece abbiamo gli indici dei prezzi alle spese personali, un dato leggero, diciamo così, sul tasso di inflazione, contratti vendetti e venditi, niente di particolarmente importante, quello che sarà un po' più motivante per il mercato, quindi che potrà causare un po' di pump and dump, sarà questa zona qui. Se non ci saranno grosse differenze rispetto ai dati previsti, probabilmente non assisteremo a grandi change da un punto di vista grafico e da un punto di vista di oscillazione. E tra le altre cose volevo anche ricordarvi che l'anno 2023 sarà l'anno in cui, se dovesse esserci una recessione economica importante, magari più importante di quella prevista, sarà l'anno in cui per la prima volta Bitcoin affronterà la recessione economica e vedremo come sarà collegata la recessione economica, perché finora ragazzi l'ultima recessione economica importante è quella del 2008-2009. Bitcoin c'era, ma era appena nato, perciò troppo giovane, non possiamo dare nessun tipo di, non avere nessun tipo di collegamento, perciò in sostanza sarebbe la prima volta, se avvenisse questa recessione, che il mercato crypto affronterà la recessione. Secondo me non c'è molta correlazione tra recessione economica e mercato crypto, non dovrebbe essercene proprio in realtà, perché non vedo nessun tipo di collegamento di natura fondamentale, però vedremo un po' che cosa succederà. Sarà anche questo un nuovo modo di Bitcoin, di affrontare tutti quelli che sono i grandi problemi del sistema economico, che però finora non aveva mai affrontato. Sarà bellissimo anche vederlo. Andiamo a comprendere se dal punto di vista di analisi ciclica, la settimana in questione potrebbe essere delicatuccia e andare a chiudere il ciclo mensile. Allora, come sempre, gli scenari in questione che si vanno a delineare possono essere due. Siamo all'interno del ciclo mensile iniziato a dicembre, 30 di dicembre del 2022, come vi avevo già indicato. Poi qui nel minimo del 18 di gennaio Bitcoin ha chiuso metà del ciclo mensile, cioè questa struttura è in pratica un ciclo bisettimanale, si definisce così, in realtà sono 19 giorni. In questo caso però è una metà, più o meno metà, del ciclo mensile. Ora, il ciclo mensile attuale io l'ho settato come quello di Nasdaq, cioè in close intorno alla prima settimana di febbraio. Adesso vediamo anche Nasdaq. Ovviamente, ragazzi, i cicli mensili, passati un tot di giorni, possono già andare in chiusura, perché in realtà c'è una struttura, cioè uno spazio temporale molto vario, cioè con molta distanza tra il numero minimo di giorni e il numero massimo di giorni. Perciò io spesso non vi parlo di una giornata precisa, perché questi sono i punti deboli dell'analisi ciclica, quindi bisogna saperla applicare in maniera estremamente professionale per comprendere come ci viene in aiuto, altrimenti vi confondete e basta. Però vi basti sapere che, in sostanza, il tempo al momento sono 24 giorni ad oggi dall'inizio del ciclo mensile, già intorno ai 30-32, quindi proprio questa settimana va bene per la chiusura del ciclo mensile. Io teoricamente l'ho spostato a 36 giorni, perché semplicemente mi immaginavo che andasse di pari passo con quello che è il ciclo di Nasdaq, e il ciclo di Nasdaq 100 è questo qui, ragazzi. Se vi ricordate quando eravamo in questa zona vi ho detto l'arrivo di Nasdaq all'interno di questa fascia di prezzo, vedete questa struttura tra 12.200 e 11.800 punti, in questo caso non sono dollari ma essendo un indice sono punti, poteva essere un'aria resistiva, quindi Nasdaq potrebbe essere in effetti arrivato sul suo target di questa struttura mensile. Anche lui poi dovrà andare in chiusura mensile che come vedete è intorno, settata intorno al 5, al 3, scusate, 6 di febbraio, perché il 3 è venerdì, e il 6 ovviamente è lunedì, quindi per quanto riguarda Nasdaq è un giorno, ma per Bitcoin sono 3, quindi ricordatevi perché siamo aperti, nel cripto sono aperte anche il weekend. Questa zona di Nasdaq essendo resistiva potrebbe in effetti fermare il rialzo dei mercati hold e chiudere il ciclo mensile. Ora se fanno cosa del genere, ragazzi, io ve lo garantisco, è una telefonata pronto, dimmi, buy and hold, pronto, vabbè, è una telefonata. Perché ragazzi? Perché l'inizio del nuovo mensile poi di Nasdaq sarà importantissimo da vedere in quanto se ha spinta di superare questo livello, cioè questa zona qui, a quel punto accelera fino alla nuova livello di resistenza. Se fanno cose del genere le cripto salgono, ragazzi. Come sono salite, come vi dicevo qui, se questo mensile sale, salgono le cripto lo vedremo anche su Bitcoin. A quel punto il breakout è l'avvicinarsi al livello di resistenza più importante per Bitcoin, dove ho perso il grafico. Sì, eccolo qui, ragazzi. Il livello più importante che è questo qui sarà facilmente raggiungibile, cioè 24-25 mila dollari. Allora, questa è una zona di grandissimo livello. Questo rimbalzo finora corrisponde al livello che vi dicevo, che vi ho fatto vedere anche in quel grafico, il famoso livello del 76%, quindi di Fibbo. Quindi ragazzi, ad oggi tutto è andato come doveva andare. Siamo nella terra di nessuno da questa settimana al 100%, cioè siamo in un limbo in cui il mercato deve poi prendere una strada perché se continua questa fase di alzista dichiara in pratica, al di là di questo livello, che veramente lo indicheremo come un livello stra-importante, dichiara che da qui in poi tutto quello che abbiamo visto da giugno a novembre fa parte del precedente ciclo e quindi non è più applicabile a questo movimento. Perciò questa è la terra di nessuno, ragazzi, ok? Questa è la terra di nessuno con una scadenza ciclica. Io personalmente penso che se il mercato andrà in scadenza ciclica e andrà a fare un minimo proprio verso la fine della settimana, questa è la... a quel punto saremo, diciamo, già a febbraio, perché poi lunedì andremo, diciamo, avanti, quindi questa settimana e poi lunedì e martedì è 31, insomma, quindi poi saremo a cavallo di febbraio. se fa questo ribascio e teoricamente dovremmo stare attenti a dove arriva, perché il dove arriva potrebbe essere un buy the dip, il primo buy the dip di tutto l'anno dal massimo storico di novembre 2021, ragazzi, va bene? Il primo, quello vero, quello che può essere utilizzato in accordo con la statistica, l'unico, ok? Quindi se fa una cosa del genere potrebbe creare un primo buy the dip statisticamente valido, perché sarebbe a favore di trend di breve e non contro, come i precedenti, che erano tutti contro trend. Una cosa del genere potrebbe essere estremamente interessante, soprattutto se si va poi ad applicare a quelle che sono alcune cripto che hanno corso tantissimo in questa prima parte dell'anno e che magari vedremo nel prossimo video. Però facciamo anche una cosa, voi scrivetemi quale cripto nella top 100, non mi portate progetti più piccoli che non li guardo, quindi nella top 100 scrivete quale cripto secondo voi hanno corso tantissimo e dobbiamo includere nel prossimo video dove andremo ad analizzare 5 progetti cripto, le top, che hanno corso tantissimo da inizio anno, per vedere se possono continuare questa fase, per vedere che cosa potrà succedere, se ci sarà una cosa mensile di bitcoin entro qualche giorno fa un piccolo dip allora dà l'occasione di buy the dip magari anche sulle cripto più forti che magari possono dare grandi risultati poi nel successivo mensile perché sarà il successivo mensile ragazzi che potrebbe in effetti far aggredire questo livello. Allora, io attualmente lo ribadisco come già ribadito nel precedente video, nessun segnale di chiusura di nessuna operazione, si resta full long e non c'è stato mai un segnale di inversione. Se fate operazioni di brevissimo allora dovete stare attenti alle inversioni da qui in poi di brevissimo, quindi su time frame un'ora per esempio o 30 minuti o 15 minuti. Se invece siete su daily per esempio e quindi operazioni medio-lunghe non c'è nessuna inversione. Personalmente sono long da dicembre e ci resto e così anche tutti quelli in Academy che mi hanno seguito non hanno seguito quanto ho capito perché ne abbiamo parlato proprio l'altra volta e non c'è mai stato il segnale di inversione ragazzi, però se effettivamente dovesse esserci da questi livelli dovremmo prenderlo in considerazione perché oltre alla chiusura del ciclo mensile la successiva eventuale ripartenza se non è forte si rientra nell'ipotesi 1 e a quel punto avremmo creato una figura di inversione perfetta che è proprio creata qui e lì ragazzi questo momento sarà ricordato per tutto il 2023 come il must short selling per crypto allora io credo che non sia così spero che non sia così in realtà perché i dati oggettivi non ce n'è sono ancora valide entrambe le ipotesi però la ripresa l'eventuale dip e la ripresa post dip ci daranno delle risposte anche molto interessanti per quanto riguarda le operazioni full long non sono così finanziari ma dati statistici non c'è nessuna inversione quindi fate attenzione anche a queste cose fatemi sapere le top 5 crypto per voi ne parliamo nel prossimo video buon inizio settimana a tutti ciao